Budicca, la regina guerriera che lottò contro l'impero romano. Budicca, o Budicca, o ancora Buadicea, è stata una regina della tribù degli Iceni, una popolazione che viveva nell'Inghilterra orientale. È principalmente nota per aver guidato una rivolta contro l'impero romano nel 60 o 61 dici, che si rivelò una delle più grandi e pericolose minacce mai affrontate dai romani in Britannia. Budicca nacque intorno al 30 dici e sposò Prasutagus, re degli Iceni. Il matrimonio fu un'alleanza politica tra le due tribù, gli Iceni e i Trinovantes. Prasutagus era un alleato dei romani e aveva ricevuto il titolo di recliente da Claudio, l'imperatore romano. Alla morte di Prasutagus, i romani confiscarono il regno degli Iceni e sottoposero la sua famiglia a vessazioni. Budicca e le sue figlie furono frustate e stuprate, e molti Iceni furono ridotti in schiavitù. Queste azioni provocarono una grande rabbia tra gli Iceni e le altre tribù britanniche. Budicca, che era una donna forte e determinata, si fece portavoce di questa rabbia e guidò la rivolta contro i romani. L'esercito di Budicca era composto dai Iceni, Trinovantes e altre tribù britanniche. Era un esercito numeroso e ben armato, e riuscì a infliggere una serie di sconfitte ai romani. Nel 61 d.C., Budicca e il suo esercito saccheggiarono e bruciarono la città di Londinium, che allora era un importante centro romano. In seguito, saccheggiarono e bruciarono anche la città di Camulodunum, che era la capitale della Britannia romana. Le vittorie di Budicca furono un duro colpo per i romani. L'imperatore Nerone inviò in Britannia un esercito comandato da Suetonio Paolino per schiacciare la rivolta. Le due armate si scontrarono nella battaglia di Wattling Street, nel 61 d.C. I romani, guidati da Paolino, furono vittoriosi e Budicca fu sconfitta. Dopo la sconfitta, Budicca si suicidò. La sua morte segnò la fine della rivolta, ma il suo ricordo è rimasto vivo nei secoli come simbolo di resistenza e libertà. L'eredità di Budicca. Budicca è una figura leggendaria nella storia britannica. È considerata una delle più grandi eroine del paese e il suo nome è spesso associato alla lotta per la libertà. Budicca è stata rappresentata in numerose opere d'arte e letteratura. È stata oggetto di film, libri e opere teatrali. Il suo mito è ancora molto popolare oggi. È un simbolo di resistenza contro l'oppressione e di lotta per la libertà. Le fonti su Budicca. Le informazioni che abbiamo su Budicca provengono da fonti romane. Le principali fonti sono gli scritti di Tacito e Dione Cassio. Tacito, che scrisse la sua storia della Britannia nel secondo secolo dici, è la fonte più autorevole su Budicca. Il suo racconto è ricco di dettagli e fornisce una visione approfondita della sua vita e della sua rivolta. Dione Cassio, che scrisse la sua storia dell'impero romano nel terzo secolo dici, fornisce un resoconto meno dettagliato di Budicca. Tuttavia, il suo racconto è importante perché fornisce una prospettiva diversa su di lei. Le fonti romane sono spesso imprecise o distorte. È importante tenerne conto quando si legge su Budicca. Tuttavia, nonostante le loro inesattezze, forniscono un quadro generale della sua vita e della sua rivolta. La figura di Budicca. Budicca era una donna forte e determinata. Era una leader naturale e aveva un talento per l'oratoria. Era anche una donna coraggiosa e non temeva di combattere per ciò in cui credeva. Budicca era una donna complessa. Era una regina, una madre, una moglie e una guerriera. Era una donna che ha lasciato il segno nella storia.